L'idea era quella di offrire un panorama cinematografico ampio che attraversasse vari continenti, vari mondi e allo stesso tempo che fosse anche espressione di varie modalità di approcciare il racconto documentario. Il documentario in sé è una categoria un pochino vuota, quello che abbiamo tentato di fare è trovare dei film che fossero cinematografici, cioè che muovessero delle cose. Allo stesso tempo il contenuto era fondamentale, nel senso che i film dovevano in qualche modo offrire uno spettro estremamente ampio di ciò che significa oggi avere a che fare con la propria identità, con la propria sessualità, col proprio corpo, con i propri desideri e con le modalità attraverso le quali si socializzano questi desideri. In assoluto credo che i film abbiano una loro validità che trascende la tematica. Un film come Le Siela in Battaglia o come Catacali sono film che sono validi di per sé. Noi abbiamo voluto fare questo festival dedicato al gender perché all'interno del Gay Village e del DGay Project c'erano già avanzati degli studi dedicati alle questioni del gender e quindi ci sembrava che fosse interessante andare a verificare cosa accade quando queste tematiche vengono indagate con lo strumento del cinema. Cioè noi abbiamo uno sguardo privilegiato rispetto a certe tematiche ma i film sono validi di per sé. Grazie a tutti.